Vediamo come ritornare l'idea della funzionalità del prodotto, infatti con un'ambizione sullo schienale serve sempre prenderla per far scolere l'acqua più vana, che come dice il nome, è un'ambizione di un'ambizione moderna all'esterno, un po' evidente, e il fatto che si è tagliato sui lati è perché se lo vuoi non si possa funzionare una parte, è un'ambizione di un'ambizione Grazie